E' qua con noi il direttore Feltri, quindi è il nostro capolista. Vittorio, se vuoi dare un saluto. Un saluto e un ringraziamento a tutti voi, poi anche perché avete fiducia in me e li sbaglierete. Forse è l'unico errore della campagna elettorale. Io personalmente mi auguro di riuscire a sopravvivere in cinque anni insieme a questa meravigliosa amministrazione. E poi vedremo, faccio tutti gli auguri, cercate di portare a casa più voti possibile. Io non so come farò, ma ci proverò. Voi siete più bravi e più esperti di me, per cui riuscirete a far vincere questo centro-destra che secondo me è incontestabile anche in questo momento a livello nazionale dove infugiano delle polemiche fatte dagli idioti. Grazie. Mi sembra che Feltri parla come mangia, è sempre molto chiaro.